E allora si esce fuori forte dalle corsie centrali, e allora Cosumano dalla corsia centrale va a prendersi subito la prima posizione, davanti alla trezza, il team Longiate-Codasco e Cortose, e poi Busadelli e Torbeni, anche dell'Longiate, ma è ancora un grande salto credo di Cosumano, Cosumano-Filippo del Caravaggio, tabella 6-7-7, Deva chiudere insieme a Cortose, insieme a tre Longiate-Codasco, tutti e tre in finale a Longiate-Codasco